e ciao ragazzi di nuovo qui sul canale dei coach quindi ti interessano pettorali e tricipiti beh pare proprio di sì questa sessione che l'ho dedicata interamente a corpo libero quindi attenzione si tratta di prevalentemente di tre esercizi dove l'asimmetric push up mi raccomando al lavoro della schiena costantemente l'addome contratto il link line push up stesso accorgimento mi raccomando e l'ultimo che ti ho messo è il sul dettato push up prima destro e poi sinistro ma come devi seguirli e quanti ne devi fare beh giù se non ti ho spiegato bene qui come devi farli in basta che vuoi di giù la scheda qual è l'idea ti prendi qualcosa di alto io per comodità o un box ma potesse avere un plico di libri un paio di step uno step uno sgabellino ok da qui qual è l'idea mi raccomando non inarcare la schiena quindi tieni forte l'addome il lavoro si distribuisce tutto su un braccio quindi giù e su distendi bene il braccio giù e su giù e su ovviamente per i più avanzati basta alzarsi e il lavoro cambia completamente si lavora sul tempo 30 secondi sono di esercizio e 10 secondi sono di recupero poi passi per l'altro braccio dopodiché fai l'incline push up incline vuol dire anziché decline che le braccia sono bassi incline e quello alto anche in questo caso ti prendi qualcosa di alto e anche qui mi raccomando non inarcare la schiena quindi cerca di lavorare bene con l'addome per i più avanzati questo è il lavoro che bisogna fare sempre 30 secondi di esercizio e 10 di recupero per passare a quello dopo il shoulder tap destro e poi quello sinistro questa è l'idea quindi giù tocchi giù tocchi giù tocchi 30 secondi su un braccio 10 di recupero e passi all'altro e provi a fare almeno tre giri beh che cosa ne pensi di questo workout lo eseguirai ti piace mi raccomando se così fammelo sapere giù nei commenti lascia un like iscriviti al canale a te veramente non costa nulla se non qualche secondo del tuo preziosissimo tempo ancora una volta fammi sapere cosa ne pensi tu sai cosa devi fare allenati bene ciao